Ok, buongiorno, oggi guarderemo come prendere la Torre Divina di Godric. Come vediamo siamo all'altezza del ponte fortificato di Sepolcride. Qui spariranno dei giganti di fuoco con le tempeste. Ok, buongiorno. Come. Ok. Ok, buongiorno. Ok, buongiorno. Facile, facile. Arriviamo al Colle Tempeste. Ok, buongiorno. E siamo all'interno della Torre Divina di Godric. E' qui che prenderemo a posire. Ok, ora possiamo vedere la Torre Divina di Sepolcride. Seguiamo. E ripristiniamo il poster della Runa Maggiore. Ecco fatto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like. Mettete. K casi. Grazie a tutti